Si avvicina ad una svolta la crisi politica greca. È terminato l'incontro tra il premier Gheorgos Papandreou e il leader del principale partito dell'opposizione conservatrice Antoni Samaras, con il capo dello Stato Carolos Papulias, per trovare un accordo sulla formazione di un governo di unità nazionale. Papandreou ha lanciato l'invito a Samaras, che chiede le dimissioni del primo ministro come condizioni all'accordo. Il favorito alla successione sembra essere Lucas Demetrius Papademos, ex vicepresidente della Banca Centrale Europea.